di dare un segnale dopo questa sconfitta, perché è stata una partita in cui potevamo far di più e questo onestamente mi ha un po' toccato, perché la nostra squadra anche nelle sconfitte aveva sempre dimostrato grande carattere, anche nella sconfitta di Caserta. Purtroppo abbiamo un po' pagato le ingenuità di Caserta, perché giocare con una difesa totalmente nuova è stato un problema, è stata anche una sfortuna, e quindi i miei pensieri sono quelli di voler venire fuori da questa sconfitta e cercare di tirare fuori il massimo come sempre. Ma guarda, spero di vedere una reazione da parte dei ragazzi che non ci stanno all'ultima prestazione, spero di vedere una reazione da parte dei giocatori che comunque hanno commesso un'ingenuità a Caserta e hanno compromesso anche la seconda partita, spero di vedere una reazione caratteriale, spero di vedere il fuoco, spero di vedere incendiare i polmoni a fine partita che non ne hanno più, spero di vedere i giocatori dar tutto. Questa è la mia speranza, ma sono anche convinto di questo, perché se conosco bene i miei ragazzi domani non la daranno vinta. Giochiamo contro una squadra, secondo me, organizzata e ben allenata, che rispetto all'andata ha cambiato il modulo, ma soprattutto ha cambiato molti interpreti, forse 4-5 giocatori rispetto all'andata, ma l'interpretazione della gara è la stessa, è una squadra che giocherà, è una squadra di possesso, che vuole tenere la palla, che vuole controllare il gioco, è una squadra forte, sarà una bella partita difficile, ma sarà anche difficile per loro, di questo ne sono convinto. Quanto hanno inciso alcune vicende extracampo di cui stiamo parlando, ovvero vicende a Piacentini, vicende a Diachite, vicende rinnovi, calciomercato, insomma, qual è il tuo punto di vista rispetto a queste situazioni? Beh, aggiungerei anche il fatto che siamo molto giovani in campo, domenica siamo partiti con 5 under e abbiamo finito con 7 under, e questa è una cosa che in questo girone così difficile influisce inevitabilmente, sono tutti aspetti che comunque contano, perché quando hai l'ambiente totalmente concentrato e unito riesci a dare il massimo, a volte queste distrazioni esterne che ci sono state non ci hanno permesso di dare il massimo, ma questo credo che faccia parte, queste difficoltà sono per noi, ma sono anche per le altre squadre. Grazie.